bello ragazzi sono nadefagin e siamo con un nuovo video parodie niente sigla perchè questo video deve avere avrà questo il mio aiuto zebo89 ringrazio e cosa posso dire? cominciamo? come ha detto zebo89 gamer e siamo con questo video si odia si dice un parodia di mera che si sente bella a tutti ragazzi bella a tutte ragazze bambino india 64 oggi siamo qui in vostra moglie bravo saluto Samu ciavone che uè Samu sei un figo saluto grande da mera che 64 i grandi aio mamma è asciuto ora non puoi entra? non puoi entra? mi ha detto di salutarlo bravo ma iniziamo il video proprio anche dopo che hai cominciato prima ho visto dei video di Sivisho bravo stai qui e vi dico di andare su questo canale perchè questo bambino mi dice io oggi Sivisho vi consiglio di andare su questo canale stai qui fa video e prendi stai qua stai qua fa video e prendi il giro qui e prendi il giro qui voglio vamociò vuoi un video su di te? la risposta di Zebo89 abbiamo detto Zebo89 e volevi vuole guarda che faccia guarda che faccia grazie Zeb ma c'è e io farò questa cosa ma poi si crede anche alla manitosa prendi in giro gli altri che sono anche più grandi di lei Sivisho è youtuber ecco cosa succederà allora siamo un po' con una nuova parodia che è ah sono i peroni di me che non dici io ma io mamma ciò lascia detto allora mi piace mi piace mi piace teke 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 te poi si intendeva questo io sono un po' da di che sono bello di che sono bello fitness devo dire che sto qui di ciao guarda guardate il suo cane le faccia deprimente che faccia mi tocca una lampadina fate quel cazzo che volete ma guarda che faccia guarda è è il suo cane è proprio che ho finito anche il carane poverino bella avete visto da me devo dire che Silvi mi sta molto mi sta molto antipatica perché continuo a prendere in giro gli altri e fate come delle battute quando loro dicono cioè ti voglio odiare alla grande ma chi? magica ma chi cos ... ma chi ? chi? ma chi è?! ma gli te la cazza e si andava via o io mamma si matto o io ma se volete ma è la terza volta ma ti sei vista lo specchio no perché non c'è da mi dispiace e lei ha detto ah è vero non ti sei vista lo specchio ah perché se mi vedi subito lo specchio lo specchio si spacca non posso fare eh non posso spaccare un bel minchia non posso mi capo come ho messo allora si vede che hai più scritto di lui perché lui non è 19 si vede ognuno di quando ne abbiamo poi si vede dove sei dimmi ero scritto a te ma tu dimmi perché non c'è scritto oddio mio si vede o parole no andiamo schiacciamo si vede questa era la cosa di si vede oddio allora ne ha 5 e 1 e 620 cento minuti 100 minuti grazie si vede che mi ha aiutato e non è difficile mica non mi viene 19 19 ragazzi mi dì il belto che questo qua mi dice scherzea ovviamente e dobbiamo ricorrere di nuovo dobbiamo ricorrere di nuovo eh siamo piccogioni eh eh volevi vuole guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava è non questo mi fa mia dimmi che farà un video su di me e ti racconta il giro mia sorella passa a casa però farà delle battute su di me e il passo non posso sapere la cosa in sebo 89 e nel prossimo video dirò una battuta te le indicherò e la dirò farà una battuta lei farà il video su di me c'è io voglio riusare due volte per tutto no una battuta che lei mi farà a me io la controbatto e la faccio a lei ma che cazzo sei mio minchia sei tu che sei venendo in giro una più grande di te sei tu minchia siamo noi ok se tu vuoi fare un video su di me ma che cazzo me ne f**to ma lo sei mio minchia che passa così per caso mi dispiace ma questa è la vita mi dispiace ma questa è la vita che cazzo sei fai un video su di me io non faccio niente adesso farò solo una parodia piccola ma scusa bambino alberico si vieni ma mamma io poi che cazzo c'è nella tribù delle parodie ma che cazzo che volete il nostro lavoro il nostro lavoro lo faremo perché il nostro lavoro è trasmetterti la nostra gioia nelle vostre bimbo minchia però oggi il video può bastare l'avevamo già capito ci vediamo al prossimo video bella raga no ma hai fatto un video è da due settimane che non fa uno ha detto ci vediamo al prossimo video due settimane che non lo fa è andato a fuoco un bambino e raga vediamo quanti io avrei scritti c'è la 19 516 non mi piace 23 mi piace andiamo a vedere adesso leggeremo tutti i commenti raga il commento di voi scrivi non da a realtà quello come te ma per favore smenti stai un po' fermo quando fai il video ironico e sciocco ma si vi scherzo è solo ironia più che per carità ti stai un po' fermo grande si vi handicappato lei non fa per prendere in giro gli altri nemmeno per se in cui sta facendo i video è solo per strappare un sorriso al gente sei un rosicone di bip e lei non è per niente vanitosa lo sarai te non credo neanche che lo leggerei perchè non sai leggere ma stai zitto lei fa le parodie sono pure divertenti si viene appena in giù la gente si vittiamo hai sei mesi di vita cosa che ne sai dire cosa bip cioè dimmi che peso a che fare un video contro qualcuno che mai che ne vende te ne te vedo per voi che tanto caro tu non sei migliore di nessuno e non direi Sivi questa è la vita per questo tu non sai niente della vita non puoi andare davanti a casa tua da solo quindi è meglio che ti stai zitto caro e tu non hai nemmeno una popolazione come Sivi e qualche altro youtube esistente ah raga ci sono molti commenti negativi cazzo molti tutti e raga per oggi non è tutto perché potremmo bisogna un po' di lungo tempo si abbiamo tanto tempo possiamo guardare insieme un video di survival power sorri 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 e no non c'è più non trovo più che posso tanto cercarlo e però c'è tutto vi mando un sorrisino e facciamo una canzone bella dai oggi è una bella giornata e oggi per tutto non c'è qua il conto patriano davideviano è tutto inutile è tutto è tutto sarà bella 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 bella